I medici sono indagati in concorso con l'accusa di omicidio colposo nell'esercizio della professione sanitaria. Il fascicolo è stato aperto dalla procura di Palmi dopo l'esposto presentata dai familiari della vittima, il 61enne di San Ferdinando, Anthony Michael Straputicari, tramite lo studio legale 3A. Gli inquirenti hanno anche disposto alla riesumazione della salma e l'autopsia per accertare se la morte del paziente sia imputabile all'operato dei sei medici. Il 61enne è deceduto il 20 febbraio scorso nell'ospedale di Polistena durante la seconda operazione. Secondo quanto è ricostruito dai legali della famiglia, sarebbe stato operato all'intestino per una diverticolite acuta, ma i sanitari non avrebbero ripulito bene lo stomaco. Questo avrebbe mandato il paziente in setticemia e quanto i medici ne se ne sono accorti, scrivono così i legali, dopo averlo dimesso per due volte senza riscontrare problemi e l'hanno sottoposto a un secondo intervento d'urgenza, ormai era troppo tardi ed è morto praticamente sotto i ferri. La procura di Palmi ha aperto un procedimento penale per il reato di omicidio colposo nell'esercizio della professione sanitaria in concorso e ha iscritto nel registro degli indagati i sei medici dell'ospedale di Polistena. Parliamo di AP, 51 anni, di Siderno, il chirurgo che ha operato il paziente per la prima volta in relazione appunto al primo intervento e alle successive dimissioni. RN, 60 anni, di Taurianova, il chirurgo che in particolare l'ha operato la seconda volta, ma con riguardo a entrambi gli interventi. CP, 42 anni, di Melito Portosalvo e DV, 72 di Bovalino, per il primo intervento. RL, l'unica donna dei 6, 37 anni, di Ricadi e GM, 63 anni, di 5 frondi per la seconda operazione. Un atto dovuto, quella della procura di Palmi, proprio per consentire ai sei sanitari di nominare eventuali consulenti tecnici da parte degli accertamenti non ripetibili. Il magistrato inquirente, infatti, ha disposto l'esumazione della salma. La vittima era già stata sepolta nel cimitero di San Ferdinando e sarà trasportato alla camera mortuaria all'ospedale di Germaneto, di Catanzaro, proprio per effettuare l'autopsia e accertare le esatte cause della morte, nonché la sussistenza di eventuali responsabilità penali, casualmente collegabili al decesso da parte dei medici indagati. Il PM conferirà l'incarico venerdì 22 marzo a un proprio consulente tecnico d'ufficio.